Allora, settima vittoria consecutiva, ripeto, sempre a merito di questa grande squadra, di questi ragazzi, di cui sono orgoglioso, chiunque metto dentro dal suo, oggi avevamo diverse assenze, però chi ha giocato non ha fatto notare la cosa, nel senso che comunque Melis ha preso il posto di Gian Donato, ha fatto due gol, mancava Cutrupi, avevamo Campanella, avevamo Giovannetti, la difesa, è quella di sempre, abbiamo rimesso un gruppo paesani che ha fatto un ottimo quarto d'ora, l'ingrediente principale di questa squadra è il gruppo, è la voglia di non mollare mai e l'umiltà. Ripeto quello che ho detto nella penultima intervista, la Pisana è una squadra formidabile, giocatori di caratura, la Goldbet non è da meno, ripeto, sono le squadre che poi lottano per il titolo, per cui noi testa bassa, un passo alla volta, umili, noi dobbiamo fare questo, ripeto, noi dobbiamo fare i punti per salvarci, poi alla fine del campionato direremo le somme. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.